cari amici telespettatori questa è la diretta del 3 maggio 2021 quest'oggi siamo qua con voi vogliamo parlare di tanti argomenti cominciando naturalmente da quello che è stato a Milano per carità non sono favorevoli agli interisti però è anche giusto festeggiare sì però ci deve essere comunque un contegno secondo me credo che le forze di polizia abbiano agito malissimo si dovevano provare a contenere comunque quei tifosi perché anche se fosse stato in Milan avrei condannato comunque detto questo volevo passare a parlare di tutti gli amici che stanno compiendo gli anni in particolare quest'oggi mi soffermo su un grandissimo artista che è stato e che è Dino che insomma anche per lui gli anni passano compie una bellissima età arrivarsi come lui è tantissimo ha fatto tante cose ma compie gli anni tantissime altre persone che conosco e che saluto alle quali ho già fatto gli auguri pienamente su facebook e quindi questa diretta è anche dedicata a loro per il resto amici abbiamo tantissime cose quest'oggi da dirci e andiamo sul sodo nel senso che questa sera c'è una nuova notizia sulla I1 e credo che insomma Greta Scalano abbia fatto un ottimo lavoro si chiama Chiamami ancora amore è una fiction puntata che dovrete seguire e che sicuramente esigerà qualche spunto qualche bella emozione a tutti coloro che vorranno vedere questo genere ed insomma da un certo punto di vista è anche orgogliosamente stimolante perché comunque quel settore sta riprendendo e la cosa è positiva estremamente poi ragazzi quest'oggi ci sono tantissimi argomenti ripeto questa diretta verrà pubblicata anche nel mio canale quindi poi lo potrete vedere se non siete collegati e insomma ci divertiremo a parlare di un paio di cose che secondo me se tutto va bene succederanno mi auguro possa essere un'estate migliore rispetto a quella forza perché comunque le riaperture ci sono l'importante sarebbe che le persone continuassero a rispettare le regole cosa non facile però insomma confidiamo nel buon senso e nella civiltà dei nostri connazionali poi devo dire per quanto riguarda certe squadre ho già detto quello che pensavo poi c'è tanto parlato di diritti tv speriamo che almeno qualcosa lo vediamo anche se scale l'anno prossimo visto che se ne è parlato come sapete da zone sembra favorita sui diritti televisivi però poi vedremo quello che succederà ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi ritorneremo con tante altre cose vari argomenti quindi vi aspetto quindi vi aspetto pausa pubblicitaria pausa pubblicitaria che vorrei guardia ora so so v ma Cari amici eccoci tornati, siamo qua e ora parliamo di quello che vorrete vedere secondo me nella prossima estate, so che molti artisti come per esempio Albano dovrebbero riprendere con la musica, sicuramente si daranno delle belle soddisfazioni, per quanto riguarda coloro che amano i cartoni animati, sicuramente riprenderà anche Cristina Davena a lavorare, quindi insomma tutto quel settore ricomincerà piano piano e insomma sono sicuro che ne vedremo sicuramente delle belle per il azzamici eccocici per il azzamici eccocici stasera di mangiare come cibo una buona pasta asciutta magari leggera e poi di mettermi davanti al televisore come vi dicevo prima perché sicuramente questa nuova fiction sarà qualcosa di spettacolare e se no potrete guardare qualche altra cosa in qualche altro canale perché comunque c'è sempre un'ampia realtà tra i 4 e i 5 tanti altri canali insomma su cui guardare varie cose detto questo speriamo che anche torni presto il pubblico nelle varie competizioni e così e per quanto riguarda quest'oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione e vi aspetto alla prossima alla prossima